I modelli virtuosi più significativi sono quelli che si sono realizzati e si sono in qualche modo affermati nella Germania, perché la Germania è un paese che ha attivato da almeno un quindicennio, un ventennio, una profonda attività di confronto con il nazismo, in una duplice logica che è quella di non dimenticare l'esperimento del nazismo che ha profondamente segnato la Germania e dall'altro però di storicizzare questo fenomeno, cioè di fornire ai cittadini della Germania democratica un doppio binario, conoscere e ricordare, sapendo che le due cose non sono la stessa cosa e che la conoscenza è in qualche modo il terreno sul quale si può poi innervare una memoria consapevole. Noi ci siamo avvalsi di una serie di viaggi di studio, di rapporti, di analisi, di interlocuzioni con i progettisti e gli autori di questi musei che ci hanno dato molte indicazioni su come procedere e la prima, che è forse la più importante, riguarda tre cose. Una, che si può fare un centro di interesse indipendentemente dal possedimento di una collezione di oggetti. Quindi ci sono questi musei che non sono costruiti attorno al tema dell'oggetto per cui uno cosa fa? Mette il manganello, mette l'orbace, mette tutta questa coreografia. No, sono costruiti su articolati sistemi documentari multimediali che consentono di costruire una informazione meditata su questi eventi indipendentemente dalla caratteristica propria di un museo. Tanto è vero che al di là dei nomi che questi musei assumono, sono tutti di fatto dei centri di interpretazione. Ovviamente non ce ne sono solo in Germania, ma indubbiamente la Germania è quel paese dove questa riflessione è stata condotta attraverso lo strumento del centro di interpretazione in maniera più matura, meditata e anche con un investimento economico che dà il segno di quanto la democrazia tedesca sia interessata a consentire ai cittadini di guardare a quella storia con occhi colti, disincantati e maturi. Grazie